Musica Semplificazione edilizia, iniziato in aula il percorso della legge Valore alpino, alvia la discussione Entro febbraio anche in Piemonte il vaccino Novavax Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati, iniziato in aula il percorso della legge sulla semplificazione edilizia Con la discussione generale sul testo è iniziato il confronto in aula sulla proposta di legge 125 in materia di semplificazione edilizia e urbanistica Il testo presentato dal consigliere Walter Marin, lega e approvato la settimana scorsa dalla Commissione Urbanistica dopo 16 sedute Rivede le norme per il riuso edilizio, le ristrutturazioni, l'utilizzo dei rustici, dei locali sottotetto ed interrati e semi interrati La delocalizzazione dei fabbricati costruiti in aree a rischio idrogeologico, le competenze dei comuni Relatori di maggioranza Walter Marin, lega e Paolo Ruzzo, la Forza Italia Poter intervenire sul patrimonio edilizio esistente, che è un patrimonio immenso Fatto di milioni e milioni di metri cubi in pianura, in collina, in montagna Che effettivamente devono essere recuperati Quindi prima di cominciare a parlare di nuove costruzioni Cerchiamo di intervenire in modo drastico, semplificato e veloce per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente Vogliamo far sì che i cittadini, quando fanno una domanda o i professionisti Abbiano di fronte un'amministrazione che con tempi certi gli dica se quel procedimento è attuabile o meno Relatori di opposizione Maurizio Marello, Partito Democratico Ivano Martinetti, Movimento 5 Stelle Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre Se questa legge verrà approvata saremo sostanzialmente al far west Con gravi rischi, gravi rischi per i nostri comuni Gravi rischi per le zone a rischio idrogeologico, per il paesaggio E questo non è tollerabile Se approvato in questa maniera questo provvedimento rischia veramente che gli enti locali Si trovino nella condizione di non poter impedire nei loro comuni dei veri e propri scempi edilizzi Giornata regionale del valore alpino Al via la discussione in aula della proposta di legge Si è aperta in aula la discussione sulla proposta di legge a firma Davide Nicco, Fratelli d'Italia Per l'istituzione della giornata regionale del valore alpino Il cui obiettivo è promuovere le attività solidaristiche e di volontariato del corpo degli alpini E diffonderne i valori storici, sociali e culturali, soprattutto tra i giovani La data prevista per le celebrazioni è il 16 gennaio in ricordo del sacrificio dei caduti durante la ritirata dal fronte russo nel gennaio del 43 E' una giornata che, sottolineo, non è solo per gli alpini ma più che altro per il valore degli alpini Il cosiddetto valore alpino Che è un mix di generosità, di attenzione agli ultimi, di voglia di fare Che si traduce poi nel volontariato, nel caso di necessità del territorio Attraverso questo provvedimento, che prevede lo stanziamento di 100.000 euro annui per il biennio 2022-2023 La Regione, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini e gli organismi consultivi del Consiglio regionale Si impegna a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione per recuperare o migliorare rifugi alpini e bivacchi Attività formative quali campi scuola per studenti Con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio Relatore di maggioranza Paolo De Marchi, Lega Numerosi gli interventi di consiglieri di maggioranza e opposizione in discussione generale Valori di disciplina, di ordine, di lavoro e di garanzia anche L'abbiamo visto in tutto questo ultimo periodo, per esempio, di pandemia Dove gli alpini hanno svolto un servizio fondamentale Forse non c'era bisogno di una legge regionale per riconoscere questo valore E poi ci sarebbe piaciuto anche inserire all'interno del testo qualche aspetto relativo alla promozione della cultura di pace Ci sembra che da questo punto di vista la proposta di legge sia piuttosto carente Entro febbraio il nuovo vaccino Novavax dovrebbe arrivare anche in Piemonte Ad annunciarlo l'assessore alla sanità Luigi Icardi rispondendo al capogruppo dei moderati Silvio Magliano Nell'ambito dei question time Come si sta organizzando la regione Piemonte in vista dell'arrivo del nuovo vaccino Novavax Questo l'interrogativo che il consigliere dei moderati Silvio Magliano Ha rivolto all'assessore alla sanità Luigi Icardi nell'ambito dei question time Poiché è basato su una tecnologia ipertestata che sfrutta la tecnica delle proteine ricombinanti Novavax è un vaccino che potrebbe trovare il consenso anche, ed è questo il punto politico Anche da parte di coloro che per paura o ideologia non si sono ancora vaccinati Noi abbiamo ricevuto dalla struttura commissariale la rassicurazione che entro il mese di febbraio avremmo ricevuto il vaccino Novavax Noi abbiamo tutti gli app vaccinali, sia quelli attivi in questo momento, sia quelli attivabili nelle 24 ore Pronte a somministrare il vaccino Novavax secondo le indicazioni che la struttura commissariale citerà Cambio di denominazione del comune di Casorso in Casorso Monferrato Il provvedimento è stato votato dal Consiglio regionale del Piemonte Accogliendo la richiesta del coronimo avanzata dall'amministrazione comunale dell'ente Sito in provincia di Asti Il Consiglio ha poi approvato la proposta di deliberazione che modifica la classificazione in ambito territoriale Del comune di Borgo Franco di Vrea in provincia di Turino a seguito di errore materiale Riportando così in modo corretto la ripartizione del territorio comunale fra le zone altimetriche montagna, collina depressa, collina e pianura Le foibe sono state un'immane tragedia a lungo rimossa ma ricordarla ci rende tutti più forti e credibili nella difesa e nell'affermazione dei valori fondamentali sui quali è nata e si è costruita la nostra Repubblica Queste le parole del Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia intervenuto alla cerimonia istituzionale che si è tenuta a Palazzo Civico Alla presenza del sindaco della città di Torino, del Presidente del Consiglio comunale e delle autorità Il Presidente Allasia ha anche portato i saluti istituzionali al seminario online fonti, memorie, rappresentazioni di un esodo curato da Istoreto E' mirato ad accrescere la conoscenza dell'esodo Giuliano Dalmata nell'ambito dei più generali fenomeni di spostamenti forzati di popolazione che connotarono numerose regioni d'Europa al termine del secondo conflitto mondiale Abbiamo voluto un giorno del ricordo come Consiglio regionale, come Comitato Resistenza e Costituzione aderire a tante manifestazioni sul territorio piemontese Anche all'interno del nostro palazzo, nelle vetrine dell'URP abbiamo allestito una mostra fotografica La mostra fotografica Esodo Istriano Dalmata è visitabile fino al 4 marzo, nelle vetrine dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale del Piemonte in via Arsenale 14 a Torino Parliamo adesso di animali d'affezione Il garante regionale chiede di rivedere la legge nazionale emanata 30 anni fa Dopo 30 anni dalla sua emanazione è evidente la necessità di apporre alcuni correttivi a una legge importante come la 281 del 91 In materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo Testimoniata dal verificarsi ancora di carenze applicative e di problemi irrisolti in quasi ogni regione E quanto è emerso in occasione del convegno in videoconferenza promosso e organizzato dall'Ufficio del Garante regionale per i diritti degli animali Non dobbiamo aver timore di affrontare il cambiamento Dobbiamo avere la forza di parlare tutti assieme e di andare verso soluzioni migliori Che rispecchino la sensibilità cresciuta nella società Ai lavori è intervenuto il presidente della giunta regionale Alberto Cirio Che ha anticipato che la regione a breve interverrà con uno specifico provvedimento per la gestione della custodia dei cani con la catena Il Piemonte è una regione all'avanguardia per quanto riguarda le leggi contro il randagismo Per quanto riguarda la cura, per quanto riguarda la tutela degli animali Il convegno moderato dalla giornalista Rosalba Nattero di SOS Gaia A cui hanno preso parte rappresentanti di numerose associazioni animaliste tra cui ENPA e LAV Ha voluto fare luce sulla situazione e lanciare una proposta per il futuro La consulta femminile regionale riunita in assemblea plenaria alla presenza del consigliere segretario Gianluca Gavazza E presieduta dalla presidente Ornella Toselli ha approvato all'unanimità alcune modifiche al proprio regolamento In particolare è stato previsto che la missione alla consulta di nuovi gruppi organizzati possa avvenire Avvenire su proposta dell'ufficio di presidenza e dopo un esame collegiale delle finalità e attività dell'organizzazione Con una deliberazione assunta non più a maggioranza assoluta delle componenti Bensì a maggioranza delle presenti Che dovranno però essere almeno un terzo delle consultrici per rendere valida la votazione Secondo i nuovi quorum è stata deliberata la missione di tre nuove associazioni Ovvero IF, Mondo di Donna e Moica Per questa edizione è tutto Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti Sull'attività del consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS